Detto fatto, questo video sarà limitato da YouTube. Sì, purtroppo l'argomento non gli piace. Questo significa che potrebbe non arrivare a tutti quanti come ultimamente sta succedendo. Ci siamo un po' rotti il cazzo. Ok, questo video è innocentissimo, nel senso che non ci sono immagini spinte. Siamo stati attenti, proprio perché il tema è quel tema lì, a non mettere immagini compromettenti. Ciò nonostante, a YouTube non piace proprio che si parli di questo argomento. Potremmo passare ore a parlare di cos'altro fanno passare senza problemi, ma è meglio che ci asteniamo, se no sembra che stiamo sputando nel piatto dove mangiamo, ma una piccola rivincita, fatecela prendere. Visto che qui se la prendono per un argomento, tra l'altro espresso senza volgarità, su Patreon mettiamo una versione dove ci sono senza censure. Per tutti, dedicato a tutti quanti, sappiamo che ormai ci sono più di 6500 persone su Patreon, quindi mi raccomando, andate, tanto è gratis per tutti. Ci avete fatto caso che qualsiasi cosa dà impasto all'umanità, prima o poi va a parare sul sesso? No, non dire quella parola, ci blocca nel video. Ma che è la parola con la S? Esatto, non la dire. E come faccio a non dirla? Cioè, tutto il video parla proprio di se somigli a noi, e cioè sei un giocatore abbastanza onnivoro, ti sarà venuta almeno una volta la curiosità di provare un gioco per adulti. Ma non quelli Peggy 18, quelli che giocano anche i bambini dell'asilo, e con buona pace del moige, è solo colpa dei genitori che comprano roba senza sapere cos'è. Noi parliamo dei giochi sozzi. Quelli che, in qualche modo, vogliono portare su schermo le gioie del sasso. Io, Forbi, ce ne hai vinto tu. Mi devi 200 euro. Quando è che si è deciso da questa cosa? I videogiochi tentano da sempre di emulare la realtà, rendendola più interessante di quello che è, tranne tre in simulato. Quel gioco riesce a rendere un viaggio in treno il 75% più palloso di come sarebbe nella vita vera. Ma il punto è che nel magico mondo dei videogiochi puoi condurre un treno in stazione, puoi falciare un prato, puoi ristrutturare un appartamento e coltivare grano. E non importa quanto sia banale l'esperienza simulativa, ogni gioco del genere ha sempre una community super infognata che non vede l'ora di tornare a casa dal lavoro vero per dedicarsi al lavoro finto. Ma nella vita non c'è solo il lavoro, c'è anche il sorbetto al limone. Oh, ci bloccano il video, non ci danno un soldo. Va bene, c'è anche l'amore fisico. E ovviamente ci sono dei videogiochi dedicati a questo. Voglio dire, c'è chi si diverte a falciare l'erba a schermo, o vuoi che non ci sia chi si diverte a scoprire. E sappiamo che voi siete persone pure di cuore, che mai e poi mai vi avvicinereste a un prodotto così sconveniente come un videogioco per adulti, quindi andremo a spiegarvi, con parole semplici, com'è fatto un videogioco porcellotto. Primo livello di zozzagine. Il giochino ammiccante è un po' simpatichino. Un esempio, Bomb X. Bomb X vi mette nei panni di un simpatico minchio che striscia in modo goffo in un mondo di pericoli. Possiamo indossare un meraviglioso preservativo e raccattare fetici erotici in giro per la mappa, sparando contro i nemici litri di sborda. Orca miseria, compà. Anche quell'altra parola con la S non si può dire. Eh, mi sono distratto. E poi c'erano i giochi come Gal Panic, in cui tu eri nient'altro che una lucina colorata che doveva muoversi nella schermata, cercando di sbloccare centimetro per centimetro l'immagine di una ragazzotta disegnata. A noi, negli anni 90, bastava anche meno per arraparci come Mattarelli. Sì, ma questi due esempi raccontano un livello blando di zuzzeria in una scala da porcellino salvadanaio. A verro molestatore siamo su Babe, maialino oltraggioso. Però nel 1993 nasce uno studio che porterà avanti la bandiera della maialaggine fino agli anni 20. Siamo certi che non li conoscete, voi così innocenti e timorati di Dio. Stiamo parlando della Illusion. La Illusion parte piano, con uno strategico a turni. Si intitolava Angel Army e c'erano delle ragazzotte carine a far da contorno. E poi, un gran capolavoro chiamato Moccoriman, letteralmente uomo durello. Un platform con sequenze un po' spintarelle che capitavano tra un salto e l'altro. Oh, e quando dico gran capolavoro, leggete tra le righe, raga. Era una merda. C'era margine di miglioramento, anche perché i videogiocatori diventavano più esigenti e soprattutto attenti a determinati dettagli. Per esempio, nel 1996, c'era Lara Croft di Tomb Raider che aveva questo Gianduiotto appiccicato al petto al posto delle tette. Oh, era una donna cazzuta, atletica, e con le presunte tette abbastanza grosse da attirare la nostra attenzione. Ma era facile da attirare la nostra attenzione. Avevamo 12 anni, si saremmo arrapati anche guardando due nuvole a forma di culo. E sempre nel 96, io non so dirvi quanti soldi, ho dato alle spoglie delle liste di Duke Nukem, oppure le ho crivellate di colpi un sacco di volte. Poi, poi nel 98, è uscito un gioco splendido, spettacolare. Lula The Sex Empire. A me piaceva, perché oltre ad essere zozzo, era pure un gioco. Cioè, un gioco con meccaniche punta e clicca e un lato gestionale molto divertente. In pratica dovevi mettere su un'attività basata sul sesso e sulla pornografia. Lo stile grafico non era il top, ma a me, che avevo gli ormoni appollaiati sulla spalla come un faggiano, stuzzicava la fantasia, quel tanto che bastava. Un bel gioco, finalmente, zozzo, ma bello. Il mondo dei videogiochi si stava evolvendo, le generazioni si susseguivano e i progetti si facevano sempre più ambiziosi. Sarebbe bastato aspettare solo qualche altro anno e avremmo avuto il gioco sozzo perfetto. Però, purtroppo, uscì pure Battle Raper. Gioco picchiaduro della Illusion del 2002, in cui, tenetevi forte che non ve lo aspettereste mai, delle belle ragazze se le davano di santa ragione perdendo un capo d'abbigliamento ogni due schiaffi. Da questo si evince una cosa. Non importa il genere del gioco, la Illusion fa sempre schifo nel gameplay, ma diventa sempre più brava a fare le ragazze. E qui facciamo una parentesi oscura e inquietante. A un certo punto, questi simpatici giapponesi con in testa la fregna e poco altro, creano la loro cappella sistina. Rayplay. E lasciamo la linea al TG2. Il gioco comincia alla stazione ferroviaria, dove è possibile zoomare sulla ragazza per alzarle la gonna, e poi prosegue sul treno, dove iniziano le molestie e lo st***o vero e proprio. Chi gioca a Rayplay prova ogni cosa dello st***o, la violenza e le suppliche delle vittime. Capito come? Cioè, l'Illusion ha fatto una tale porcata che per una volta il telegiornale aveva ragione a parlare male di un videogioco. A memoria d'uomo quella fu l'unica volta. Ma non l'unica volta che l'Illusion pisciò fuori dal vaso, perché il tema della molestia loro lo avevano già affrontato con Interact Play VR. Bravi, complimenti. Oh, ma hai visto che fanno al VPN? Non lo so dove sono le penne. Se uno si abbona, poi gli danno sei mesi gratis dello stesso piano. Certo che te la do una mano. Arrivo. E quei sei mesi li può regalare a un amico, a un familiare. A chi gli pare? No, niente mare, c'ho da fare una cosa. Ma che c'entra il mare? Io parlavo di NordVPN. E la conosco, è una virtual private network che ti tiene al sicuro da connessioni rischiose. E mica solo questo. Se vai all'estero, per esempio, puoi connetterti come se fossi ancora in Italia e usufruire di sedie tv, cataloghi che hai soltanto nel tuo paese. Sì, oggi è 15 del mese. Non me l'avevi detto che avevi un gemello sia mesi. Con il link in descrizione avete diritto a 4 mesi aggiuntivi sul piano che sceglierete e sullo stesso piano i 6 mesi che potete regalare a chi volete voi. Comunque, in questo periodo, le cose cominciano a cambiare. Iniziano ad arrivare giochi che effettivamente di gioco avevano poco. Ma avevano un tasso di porcellanza estremo. L'attenzione si sposta quindi dall'esperienza ludica a quella simulativa. Con il crescere della qualità grafica e la possibilità di muoversi in uno spazio tridimensionale, molti giochi, soprattutto giapponesi, provano a fare questa roba un po' controversa. Cioè portare a casa degli utenti la girlfriend experience. Arrivano quindi i dating sim di stampo moderno con tanto focus sull'aspetto visivo e dialoghi che addormenterebbero pure un toro strafatto di cocaina. Ma com'è possibile che questa roba funzioni e soprattutto che abbia mercato? Una domanda ancora migliore. Come fa ad avere un mercato falciaerba simulator? Cioè perché io capisco il sogno di falciare l'erba ma volete mettere il sogno di falciare l'erba e il sogno di stare in mezzo a fare panino tra due ragazze seminute? Io opterei per la seconda opzione anche perché sei in compagnia. I dating sim si basano spesso sui dialoghi a scelta multipla. Scelta che arriva solo dopo ore di dolorosi soliloqui delle ragazze durante i quali hai tutto il tempo di riflettere sul fatto che forse sarebbe meno complicato corteggiare, conquistare e sposare la tipa che ti piace piuttosto che ascoltare tutte le vaccate che la Akemi di turno ti scarica addosso. Una caratteristica dei moderni dating sim e soprattutto di quelli della illusion è la personalizzazione. Sì perché non solo le ragazze sono tutte bellissime ma possono essere modificate per incontrare i tuoi gusti al 100%. Come la vuoi sta ragazza? Alta? Bassa? Seno piccolo? Seno medio? Covoni di fieno? Capelli lunghi? Corti? Colorati? Occhi blu? Rossi? O gialli? E la pupilla? Eh cazzo non la vuoi una bella pupilla da gatto? Si può fare di tutto e bisogna dire la verità gli editor spesso sono la parte più divertente e mettersi lì a giocare con i parametri è molto rilassante. L'utente inizia col cazzo in mano e gli occhi iniettati di sangue ma poi alla fine si ritrova tutto soddisfatto per aver creato la vita. E quindi? Finisce così? I dating sim di ultima generazione sono finalmente il top che si può raggiungere? Ma assolutamente no. Se c'è una cosa che il mondo del gaming aspettava per far sbocciare i giochi zozzi quella è la realtà virtuale. E devo confessarvi una cosa io gioco tantissimo con la realtà virtuale e soprattutto all'inizio quando non ero ancora abituato a quel mondo così immersivo i giochi che mi facevano più effetto erano proprio i dating sim i dating sim e i giochi in cui sei sott'acqua e a un certo punto arrivano cose enormi dall'oscurità dell'oceano tipo un balene ho un problema con queste cose. Quello che intende Mario è che avere un essere umano a pochi centimetri da te in un mondo fittizio che interagisce con te in scala 1 a 1 è parecchio figo. La magia si interrompe quando nel gioco guardi in basso e vedi quello che secondo gli sviluppatori dovrebbe essere la tua minchia e ti ricordi che tu non hai il ciuffello pixelato e ti accorgi che era tutta una menzogna. Vero però questi giochi vogliono offrire all'uomo ma che dico all'uomo al maschio un'esperienza ideale da sogno. Come dici Akemi paghi tu la cena grande cazzo ma ovviamente per quanto possa essere divertente passare una mezz'oretta a flirtare con una rompicoglioni logorroica dall'aspetto super customizzato c'è da fare un paio di considerazioni. Uno c'è il pericolo che queste avventure virtuali passino dall'essere una serata diversa al diventare l'alternativa alla vita sociale e sentimentale e due bisogna dire che come giochi fanno quasi tutte cagare. Ed è un peccato che il gioco sia venuto meno ma è venuto meno per farci venire di più perché l'industria si è focalizzata sull'esperienza simulativa che con l'intelligenza artificiale nei prossimi anni prenderà il volo sicuramente migliorerà molto ma manca una roba questi si sono dimenticati del divertimento del gameplay però non è sempre così tu ad esempio su Patreon hai portato dei gameplay in cui si giocava tanto anche se di fondo il sesso c'era d'altra parte la realtà virtuale no c'è poca ciccia ancora molta grafica e poca ciccia e poi c'è un altro fatto fatto brutto la Illusion un anno fa è chiuso il sito è chiuso il download delle patch non è più disponibili e dopo 30 anni di onorata carriera lasciano un vuoto incolmabile nel settore sì però voglio dire hanno quelli di replay non è che siamo qui proprio a disperarci ormai le cose più interessanti sono la bella grafica e l'effetto immersivo magari della realtà virtuale ed è un peccato perché l'industria del porno ha sempre mosso il mondo e il sesso è un ottimo contenitore ed è uno spreco vedere che la parte più coinvolgente di questi giochi di questi prodotti sia l'editor dei personaggi è un ottimo contenitore